Io resto a casa. Visto che ho una miriade di giochi da finire, vorrei fare una challenge in cui mi prometto di finire un gioco al giorno e ve ne consiglio anche io uno. Quindi saranno tutti i giochi che si finiscono in meno di 6 ore. Andiamo. Giorno 1 vi consiglio e mi consiglio di giocare Undertale. Undertale è quel titolo che non ho mai acquistato per via della grafica, che mi ha sempre lasciato un po' basito per la sua amatorialità. Però a detta di molti è un titolo profondo, con un gameplay profondo, innovativo e fresco. Come stile grafico a un certo punto inizia anche a piacerti per come vieni coinvolto nel gioco. In teoria ha tutte le carte in regola per essere uno dei miei giochi preferiti, anche se non sono un appassionato di furri. Ma ci proverò a giocarlo, perché voglio anch'io dire che ho giocato Undertale e non sparare a 0 a 0 come fanno molti che cagate di gioco e non sanno manco che cosa è. Io quando insulto un gioco è perché l'ho giocato, quindi oggi mi dedicherò ad Undertale.